Amici e amiche, benvenuti, bentornati nuovamente qui su Pro Secondary Manager 2024 con la nostra JCL Timucchio. Siamo riduci da un grande tour del Giappone. Ho corso le due corse che c'erano di mezzo senza grandi risultati, un quarto da top 10, un quarto posto da top 10, non ricordo, ma nulla di eclatante, le ho corse giusto per correrle. Abbiamo delle grosse news, intanto qua un po' di campionati nazionali, nuovi modelli, risultati nuovi modelli della gamma dello zero, ossia dei fini di picchi di forma non è il momento giusto, non ci interessano di questi risultati, ci interessa di una cosa ragazzi in realtà, perché? Perché? Perché signori, abbiamo uno sponsor, abbiamo uno sponsor che sgancia un sacco di soldi, non ho idea se la JCL Timucchio ci darà qualcosa, vedete 98 come percentuale, non ne ho idea. Ma noi abbiamo firmato con l'alitalia ragazzi, 911 mila euro annui, è un signore investimento. Ho rifiutato la Fassabortolo perché ci offriva circa 30-40 mila euro meno 870, mi sembra, non superavano i 900. Lo so, lo so, lo so, lo so, Fassabortolo è un grande nome, è una figata, me ne rendo conto. Vi confermo che questa è un'offerta triplice, cioè uno sponsor intero, e vi confermo che dal primo offerto della Castro Lapierre a questa ci sono, erano, mi sembra, 820 mila, quindi sono quasi 100 mila euro in più, che abbiamo raggranellato. Ora, non ho idea, il contratto è di una sola stagione, c'era un bug che hanno risolto, per cui hanno, diciamo, impedito il fatto che venissero create offerte solo di una stagione, ma mi sa che è entrato in vigore dopo le prime offerte, quindi, vabbè, vivremo alla giornata come al solito con posto di Key Manager. Io ve lo dico, se non ci arriva offerte dalla JCL Ukyo, questa formazione in realtà non è neanche uno sponsor vero e proprio, ma è uno sponsor, sì, io ho già un nome, io ho già un nome, e sarebbe semplicemente Alitalia Team Ukyo, Team Alitalia Ukyo, o Ukyo Alitalia Team, una roba del genere. Comunque, lo studieremo, non faremo sparire il nome, dovremmo rimanere di casa in Giappone, quindi questa anima, questa doppia anima giapponese-italiana, avremo, diciamo, anche una scusa più che valida di tenere gente anche italiana in team. A proposito di gente italiana, voglio farvi vedere nei trasferimenti dossier, non ne ho aperti di nuovi, sì, ho aperto questo Marino Kobayashi, che è uno dei migliori giapponesi in circolazione disponibili, quindi, eccolo qua, l'abbiamo, diciamo, lo stiamo intortando ormai abbastanza, sono tutti abbastanza intortati. In realtà, Maluccelli ha alzato il tiro a 10, valutiamo, perché io sinceramente vorrei portarmi a casa Davide Donati, perché siamo lì, e chi è che era? Zac Erzen, è sloveno, ma noi gli sloveni ci stanno simpatici, e sinceramente è già allo stesso livello e costerà una cifra in meno incredibile. Idem Pedersen, quindi giovani, rampanti, vedete che Carboni, comunque, con lo stesso Maluccelli, sono molto più convinti, pesenti, è convintissimo a rimanere, lui sarà uno sicuramente su cui punteremo, assolutamente. Detto questo, andiamo, perché ragazzi, abbiamo la prima corsa, il campionato nazionale giapponese in linea, scusatemi, la prova a tempo, la crono, la prova a tempo, vabbè, abbiamo iscritto tutti quanti, i giapponesi ovviamente, Kamada Koki non è in picco di forma, sì, ma è alla fine del picco di forma, i Shibashi non è in picco di forma, vediamo il giornale, da Arashiro, che ha 67, Tsui da 66, Yamamoto ha 63, ora, Yamamoto ha 63, è entrato in vigore tutto il discorso che abbiamo fatto della crono, più 1.8, ottimizzazione 1, bicicletta della metrona, quindi in realtà 66, 63, 64 e mezzo, lui è campione nazionale in linea, mentre Masud è campione nazionale a crono, nonostante tutto, quindi, ok, sarà molto particolare come situazione, andiamo in corsa, io ve lo dico, non vedremo tutti, perché sono 30 km, Yamamoto, Koishi, Masuda, anche Oka, e lasceremo un po' al momento, diciamo così, perché dobbiamo vedere sia questa prova che la prova, lo Dio, gli italiani no, gli italiani a livello di crono, con la coda dell'occhio, ho visto che il povero Pippo Ganna era infortunato, però non ci interessa, mi spiace che non siano arrivate offerte da team, da contractor, da sponsorship, contractor è un'altra roba, da ditte giapponesi, peccato, allora, Yamamoto parte per primo, e io direi che ci vediamo la prova di Yamamoto, ci vediamo la prova di Yamamoto in maniera tale da provare, non tanto con Sato, ma con Masuda sicuramente, e con Koishi nel finale, però strano che Yamamoto parta così presto, però va bene, ci sta, spieghiamo in un bel picco di forma, dovremmo avere un boost anche alla forma, per quello che abbiamo portato come, diciamo, allenamento, dobbiamo essere al nostro top, se il signore lo vuole, oddio, siamo a 66, non proprio, io direi di posizionarci a 74 circa, e appena Yamamoto parte con 800.000 segni della croce, andiamo, 75, bel più due, allora, questo può servire anche per chi di voi non è molto a bezzo le crono, sì, c'è questo anonimo, lo sto portando a terra, ogni tanto guardo le live di Giovanni, andate sul suo canale Twitch, mi raccomando, oltre che sul suo canale YouTube, ma come vedi, bisogna tenere ben presente che queste due barre, la gialla e quella a scacchi, devono essere vicine, ora vedi che non lo siamo, qui posso usare un po' di più, posso andare un po' più a cannone, perché abbiamo fatto il tratto in discesa, il tratto in pianura va bene, stiamo rimontando su Emasu, dietro non ci stanno rimontando, quindi stiamo facendo una crono interessante, noi spingiamo, fin tanto che la barra gialla sarà dietro, sarà davanti, scusami, scusate, mi sto usando tu, come se fosse una persona sola, fin tanto che la barra gialla sarà davanti a quella a scacchi, possiamo usare in linea di massima, io mi ricordo le crono che ho fatto con Pipigno, devono essere sempre pari, più è alto il valore crono, più questa cosa funziona bene, noi abbiamo appena superato un uomo, ora, in questo momento, beh, possiamo spingere, più che altro perché dopo c'è una piccola discesa, quindi magari non 81, ma 80, perché non voglio comunque andare in overshooting, la salita non è improponibile, ci stiamo avvicinando al primo traguardo volante, al primo intertempo, scusatemi, cioè vogliamo in per uno ragazzi, sì perché no, facciamo sta cosa, spero di riuscire a registrare tutti in una volta sola, la vedo dura però, vedendo l'orario che è in questo momento, tagliamo il traguardo, in ovvia prima posizione, ovvia prima posizione, ora, 85 giù a cannone, questa discesa non farà consumare la barra gialla, recupereremo lo spazio sulla barra a scacchi, diciamo, sulla bandiera a scacchi, che è l'arrivo, ora c'è un'altra salitella, io qui però inizierei a tirare indietro, c'erano delle scritte che avevano il nostro OCA, qua proviamo ad andare, non troppo a cannone perché rischiamo di pagare nel lungo, rischiamo di pagare nel lungo, il prossimo traguardo volante, intertempo è tra 5 km circa, avete visto il segnalivo del traguardo, diciamo dello sprint, in realtà era l'intertempo, altra salitella, non è così semplice, è anche un po' direi qualche collinare, magari Yamamoto ce la fa a gestire bene, magari Yamamoto ce la fa a gestire bene, dietro non ci stanno riprendendo mai, e davanti c'è sempre davanti uno, comunque vedete che adesso sono più o meno pari, quindi non abbiamo fatto i conti senza l'oste, siamo ancora primi, in entrambi gli intertempi, per passarti prima e anche a secondo, non so quanti secondi abbiamo dato, sinceramente, non lo dà, peccato, non lo dà, peccato, proseguiamo con questa altra salitella, a 75, è stato in tante partito, è stato partito, da un 56, quindi direi che lasciamo perdere, si farà la sua crono, andiamo giù in discesa nuovamente, poi da qui è tutta pianura, di solito, con queste crono lunghe, con Piping, andavo su di 75, perché comunque era molto lunghe, crono da 30, 35 km, sono per specialisti del settore, ovviamente, e non per chiunque, quindi stavo comunque attento, vediamo di andare, ok, manca un chilometro, io direi che possiamo osare, anche a 90, perché dobbiamo spaccare tutta la barra, a cannone fino all'arrivo, a cannone fino all'arrivo, ecco la barra rossa, potevo consumare un po' di più, primi, con un minuto e 34, su Genki Yamamoto, Masaki Yamamoto, acceleriamo, Oka sarà l'alto da vedere come, come crono, vediamo, mentre vediamo la prova di Sato, che si dipana, eccoci qui su Oka, ha un segno meno, ha un segno meno, secondo me ha un meno uno, almeno meno uno, eh sì, ha un meno uno, quindi a Sushi Oka, si farà la crono per i cavoli suoi, ha un alto valore di prologo, ma non di crono, è un grosso peccato, andremo su Masuda, più che altro perché è lui che ha, anzi, scusatemi, ovviamente mi sono dimenticato di cambiare, la schermata, guardate qua quanto spinge, secondo me male, siamo con Yamamoto, non so se siamo primi in intertempo, non lo so, questo è Atsuki, Atsushi Oka che è arrivato terzo, ma ha sprecato tantissima energia, andiamo su, ho, 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 ho Masuda, ha un bel 66, io sinceramente lo voglio gestire io, andiamo a per due però con Masuda, sappiamo già, un bel più tre cavoli, dobbiamo assolutamente sfruttarlo, assolutamente sfruttarlo, perché dovrebbe avere anche il boost di 1.7, quindi partiamo da un 63, 64, andiamo a un 68, dobbiamo assolutamente sfruttarlo, andiamo, 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 andiamo con Masuda, campione nazionale, lui si rimette in gioco la maglia, che non abbiamo in realtà mai visto, purtroppo per lui, spesa, diciamo, in questi giorni di corse, in questi mesi di corse, della JC Altimucchio, io oserei 85 comunque, perché dopo c'è la discesa, la salita non è impervia, ma è lunga, siamo ancora a aprire, Atsushi Oka è arrivato seconda, un minuto e tredici comunque, bravo, bravo Oka, comunque brava la CPU a gestire, la cosa secondo me è che con Masuda siamo andati fin troppo oltre, vediamo se di quanto diminuirà la barra a scacchi, non abbastanza, non abbastanza, dobbiamo assolutamente tirare i remi in barca con Masuda, non abbastanza, abbiamo forse un po' tirato troppo, siamo passati i primi però, Nariuki Masuda è passato prima, attenzione che lui si deve ritirare, quindi se vince si porta via la maglia, lui si ritira a fine stagione, lui si ritira, comunque si li facciamo fare la corsa al massimo, vediamo come passa, seconda tra secondi, wow, siamo stati più costanti con Yamamoto, ma abbiamo avuto più possibilità di mantenere quella barra in alto, proviamo a 80, ma secondo me è un overshoot, andiamo fuori i giri secondo me, andiamo secondo me fuori i giri, di tanto anche, mancano 3 kg, di troppo, siamo già in barra rossa, mancano ancora 2 km, rischiamo, manca l'ultimo, andiamo a tutto, andiamo a tutto, andiamo a tutto, secondo, a 22 secondi comunque, Ishiara si è piazzato tra noi e Oka, quindi comunque i primi 3, bene, Kamada lo facciamo andare da solo, perché ha un 59, Ishibashi pure, Koishi sarà l'ultimo che gestiremo, però ragazzi, avevamo l'obiettivo di fare una visibilità 1, che era semplicemente raggiungibile, io direi che qua ce la siamo portate a casa, scusate l'interruzione, le registrazioni avvengono in orario un po' particolare, come ben sapete, allora facciamo finire Ishibashi, che va da solo, e aspettiamo Koishi, però dovremmo aver raggiunto un obiettivo importante, io credo che Yamamoto non sia più raggiungibile, incrociamo le dita, perché sarebbe importante portarci a casa la vittoria proprio con lui, eventualmente poter sfoggiare la maglia di campione nazionale anche a crono, perché lui lo era già, e dovrà andare a difendere la maglia nella prossima corsa che vedremo, e penso che in realtà oggi vedremo solo questo, i campionati nazionali italiani forse lì simulerò, li giocherò per i cavoli miei, perché non credo che avevamo grandi speranze, sia con Presidente che con Carboni, mi tocca Koishi, Koishi è un bel, Koishi è bello, Koishi è un bel, vediamo quanto, per due, un bel 66, un bel più due, vai, vai Koishi, a cannone subito qui, che siamo subito in discesa, poi tratto pianeggiante, in realtà c'è una salita, Bhutan Garden, 4 chilometri, pendenza media del 3, massima del 10, quindi delle rampette interessanti, qui proviamo a mantenere 85, uno sforzo notevole, vediamo se l'allenamento, la bici da Krono, la tutina su misura, può funzionare, per Yamamoto ha funzionato, è tuttora primo, quindi top, non so quanta gente, manchi ancora a transitare, io con Koishi, no, non possiamo, lo vedo già da qua, che non possiamo, nonostante dei bei valori, anche in collina, anche lui, non riusciamo a mantenere, il campo, però attenzione, siamo primi, attenzione, siamo primi con, Yumako Ishi, Yumako Ishi, che è andato in fuga, colui che ha vinto, la maglia di miglior scalatore, nel tour del Giappone, quindi, sicuramente è pronto, siamo già, ah, già secondi, attenzione, quindi vuol dire, che c'è qualcuno, che sta andando più di Yamamoto, attenzione, attenzione, però non riuscire a vedere, sta roba è follia pura, mamma mia, Siani, delle cose veramente, bisogna imboccarti, attenzione, perché, Masaki Yamamoto, potrebbe essere, forse, il dominio, passiamo primi, anche nel secondo, traguardo volante, vediamo di quanto, vediamo a sorpassare, però qui, siamo andati, completamente in overshooting, ahiaiai, secondo me, non riusciamo a vincerla, questa, a livello di visibilità, ci siamo, qua siamo andati, veramente oltre ogni cosa, abbiamo provato, con Yuma Koishi, a far qualcosa, di improbabile, ma, ho, ho dato retta, ad alto, purtroppo, no, ma il marino Kobayashi, colui che siamo, se noi, quando male, stiamo cercando, di portarci a casa, porta via, la prima posizione, a Yamamoto, arriva in fondo, Koishi, terzo, alla fin della fiera, ah, in realtà no, Yurika Arashiro, uno dei favoriti, della Bahrain Victorious, ok, ci porta via, la vittoria, peccato, peccato, visibilità zero, no, no, dovevo fare un'altra roba, shit, e perché visibilità zero, e perché mi ha fatto, selezionare la visibilità, in prima istanza, su questa cosa, bella domanda, quindi abbiamo fallito, un altro obiettivo, probabilmente, peccato, gran peccato, qui ragazzi, tagliamo, ci saranno, la crono, dei campionati nazionali italiani, non la guardiamo, la simulerò, andremo direttamente al campionato, eccola qua, ecco, guarda, la simuliamo insieme, perché crono, abbiamo un 66, che non credo, possa far nulla, contro gente che ha da 75 in su, simulazione rapida, vediamo cosa riusciamo a fare, beh beh beh, Carboni top 10, attenzione, bravo Carboni, si mette dietro gente, rotta, conca, fortunato, bagioli, fabbro, petilli, insomma, insomma, bravo, anche il piga, arriva dietro, bene bene bene, sono molto contento, Ciccone vince, Giulio, ah beh, caspita, perché non era una crono per, specialisti puri, era una crono per, colinari, però giornata a mina, è andato molto bene, comunque a solo 10 secondi di ritardo, quindi ok, andiamo a vedere un attimo lo sponsor, ovviamente abbiamo fallito, vabbè, è tutto, è tutto buggato, il prossimo sicuramente riusciremo a fare la top 20, nella National Road Championship, abbiamo una squadra forte, dobbiamo vedere come si compone la fuga, e la gestiremo, ma lasciamo perdere, aglio, anzi andiamo a vedere un attimo, se si sono aperte, non credo, ma come siamo messi in classifica, 26 esimi, siamo migliorati, nonostante il giro sia stato completato, e il Tour de France, sia ancora da venire, però siamo messi bene ragazzi, se riusciamo a mettere insieme la squadra, con i soldi che abbiamo in questo momento, interessante, molto interessante, a livello di finanze, non sappiamo, quanto prenderemo, assolutamente no, però lo sponsor ce l'abbiamo ragazzi, lo sponsor ce l'abbiamo, i soldi ci li danno, ottimo, taglio, e andiamo direttamente, al campionato nazionale di giapponesi, che sono collinari, quindi, Yamamoto, può difendersi molto bene, anche Koishi, può fare bene, gli altri in supporto, i Shibashi può difendere, a 31 anni può dare una mano, vediamo ragazzi, peccato, non vittoria ai campionati, ai campionati nazionali come Krono, abbiamo perso la prima maglia, ma ce l'aveva Masuda, che comunque sarebbe, si sarebbe andata a ritirare, andiamo con la prossima, e poi, vediamo cosa fare, ma io, dedicherei questo episodio, unicamente ai campionati nazionali, giapponesi, gli italiani, magari vediamo l'arrivo, solo l'arrivo, 226 km, mamma mia, e a proposito di campionati nazionali, eccoci qui ragazzi, Japan National World Championship, siamo pronti a lanciare la sfida al Giappone, allora, sicuramente abbiamo, in Yamamoto Masaki, la nostra miglior, pedina, ovviamente, anche con Oka, a sushi, potremmo provare, ma in realtà qui è terreno collinare, Oka perché è in forma, purtroppo Yamamoto non lo è, è uscito dal picco di forma, c'è ancora Kamadaoki in forma, dobbiamo provare, dobbiamo provare assolutamente, io direi che facciamo, corsa 3D, come abbiamo appena fatto, e lanciamo la sfida, ora, squadre come la Bahrain Victorious, ha una sola pedina, l'altra sono un pochino più, andiamo a vedere insieme, quanta gente c'è, in questa, in questa competizione, intanto siamo in, 117, quindi comunque, è abbastanza popolato, e andando a vedere in corridori, ci sono parecchie squadre, con tanta gente, in questo caso soltanto, magari, appunto, la Bahrain Victorious, è solo Arashiro, e basta, un quarantenne, noi ne abbiamo abbastanza, direi, abbiamo, il nostro Yamamoto, con un bel meno 2, quindi sarà complicato portarlo dove vuole, quello sarà un grosso problema, quindi, Okazushi diventa, il nostro leader assoluto, con un bel più 2, Kamada, con un bel più 3, assolutamente un altro, dei nostri co-leader, direi, mettiamo il nostro Sato, a lavorare, e direi che ci vediamo, probabilmente, verso, queste salite di Nerome, saltiamo, tutta la parte iniziale, ci vediamo più avanti, però qui ragazzi, abbiamo un tentativo, grosso tentativo, possiamo provarci, dai ragazzi, portiamoci a casa questa maglia, che la rimette in paglio, proprio il nostro, Yamamoto, ragazzi, prendo la linea, molto prima del previsto, siamo ancora a 112 km dall'arrivo, è un campionato giapponese, veramente livellato, stiamo facendo una fatica incredibile, a tenere il gruppo, tutti insieme, abbiamo appena adesso, recuperato, i fuggitivi, siamo in un gruppo, di una sessantina di ciclisti, abbiamo cercato, di fare il corso a dura, sin dall'inizio, abbiamo davanti, Sato e Masuda, che stanno facendo un gran lavoro, poi vedete, sono tutti qua i ragazzi, con Kamada e Yamamoto, un pochino più attardati, ma sono nelle primissime, 20 posizioni, che mi va benissimo, voglio vederlo insieme con voi, ragazzi, non voglio perdermi, niente, poi i campionati nazionali italiani, saremo solo in tre, veramente quelli, vedremo giusto l'arrivo, per sapere dove si sono pensati i nostri, è veramente, però un campionato livellatissimo, potremmo provare un attacco, a una di queste salite, probabilmente la penultima, per vedere, di andare via con il nostro treno, fare corsa dura, però sicuramente ci permette, uno, di tenerla chiusa, assolutamente, e poi di tenerci questi 65, come buoni, ecco, non credo che nel gruppo 3, nel gruppo 2 attardati, ci siano grossi nomi, neanche nel gruppo 1, credo, sinceramente, i più forti sono con noi, che è normale che sia così, però cerchiamo di, uno, impedire che la gente vada via, e due, che siamo tutti qua, ora chiedo a Sato, di andare a prendere l'acqua, mentre Massuda, gli chiedo di alzare il ritmo a 75, appena arriverà, tornare indietro Sato, da portare l'acqua a tutti, proveremo a tirare avanti ancora, cercando di perdere nuovamente, più persone possibili, da quella di questo gruppo, ovviamente, qua Massuda sta facendo lui, tutta la fatica, mi rendo conto, i ragazzi sono qua dietro, Ishibashi potrebbe venire a dare una mano, sinceramente, perché, è abbastanza tranquillo, poi gli daremo il cambio, con Massuda, che si riposerà, e faremo tirare a Sato, e Ishibashi, ha finito, di portare l'acqua a tutti, quindi va a 75, Massuda, si riposa un attimo, qualcuno prova, un timido attacco, secondo me, esatto, sprecano solo energie, qua, la salita di Shirakama, è molto dura all'inizio, potremmo perdere, più di qualcuno, occhio, 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 il Ishibashi è molto fresco, i ragazzi sono tutti qua, assolutamente sì, perché abbiamo diverse, anche Kamada non è da sottovalutare, ha un collina 70, Kuishi ha un 72, Oka ha un 73, ha un 70 anche lui, quindi, in realtà, sono tutti messi bene, ma anche lo stesso Ishibashi ha un buon valore, adesso ci sta un po' trainando lui, per dare cambio anche agli altri, giusto Massuda, che ora torna, e Sato, che si riposa, sta cercando di far agire un po', anche Massuda ha un buon tratto, saranno coloro i quali dovranno portarci, più avanti, insomma, e tirare ancora di più il collo al gruppo, intanto stiamo mantenendo il distacco, da quelli dietro, che è cosa buona e giusta, Sato e Massuda stanno per tirare le cuoie, quindi chiedo a tutti e tre, di impegnarsi al massimo, Ishibashi ancora bello fresco, è una cosa, sono molto contento, Bhutan Garden, questa è la salita che abbiamo fatto, durante la Krono, se vi ricordate, era poco fa, quindi, Sato è andato, grazie Sato, Massuda, quasi, vediamo se lo faccio riprendere, se riprende giusto un attimo giù in discesa, poi dà un cabbio in pianura, altri attacchi, qui secondo me vanno, vanno un po' ad ammazzarsi, sinceramente, e uso contento anche Arashiro, che si sprechi, che è il più, il più pericoloso in salita, Arashiro, della Bahrain Victorious, c'è una fuga di due uomini, che però secondo me, la recupereremo a breve, tutto sulle spalle di Shibashi, che ora inizia a essere stanco, ora affronteremo per la prima volta, la salita di, Hojimi, che la affronteremo, quattro volte, voglio capire un po' come è la situazione qua, vediamo, Koishi, no Yamamoto, non deve provare l'attacco, assolutamente no, meno male che l'ho visto, meno male che l'ho visto, in questo caso, dobbiamo metterci, dobbiamo metterci, in proprio, tra di noi, quindi, un 70, questo, ok, Koishi è la nostra arma, Koishi è la nostra arma, quindi, Shibashi, Yamamoto, che, ha un meno due, quindi potrebbe fare un po' più fatica, poi mettiamo, poi mettiamo, Kamada, Oka, e Koishi, con Shibashi che fa, pacing clamoroso, e dobbiamo andare, perché qua provano l'attacco, chiaramente, ok, ci siamo, ecco il gruppo, chiedo a Masuda, di riposarsi, e semplicemente, di arrivare al traguardo, come può, Sato anche, non c'è bisogno che faccia, vabbè, oddio, sì, li lasciamo così, ma tanto non arriveranno, a dare una mano, Shibashi qua, si sta spendendo al top, quindi occhio anche, al discorso acqua, che dovremmo affrontare a breve, breve avvallamento, poi ci sarà un'altra, un'altra salita, non durissima, ok, magari 90 è troppo, facciamo 85, andiamo su di, di cattiveria, non facciamo grande selezione, ma siamo già in un gruppo di 11, quindi non è male, che vedete che, i nostri ragazzi, si riposano, anzi, potrei farli riposare, proprio così, in maniera tale, a far recuperare, a tutti, il massimo della barra gialla, ottimo, poi chiedo, ai Shibashi, di andare a prendere l'acqua, e chi, eh, avrà compito, di fare il pacing, in questo caso, Yamamoto, che chiaramente, sprecheremo, spenderemo, non sarà più lui, il campione nazionale, ovviamente, però in qualche modo, dobbiamo fare, allora, non qui, facciamo ritornare, i Shibashi con l'acqua, perfetto, ora, adesso, andiamo a fare il pacing, con i Shibashi, andiamo, andiamo, a, a, a selezionare, il gruppo di 41, che in discesa, chiaramente, è tornato ad essere tanto, i Shibashi, ha dato, sicuramente, con le borracce, ha fatto molta fatica, a portarcele, quindi, gran lavoro, di Shibashi, gran lavoro, di Shibashi, di tutta la JCL, Timucchio, che si sta spendendo, anima e corpo, per selezionare, un gruppo di, eletti, al, traguardo finale, andiamo a vedere, più, da, da, dall'alto, qui, il gruppo, si è veramente ristratto, lo stiamo tirando, tantissimo, forse stiamo un po' esagerando, forse no, ora, qui, in discesa, non andiamo a fare selezione, ma andiamo a recuperare, la barra gialla, saranno le ultime volte, che lo faremo, perché, comunque, vedo che anche, coisce un po' in difficoltà, andiamo a vedere, chi, poi, avrà, diciamo, la forza, di, di portare a casa, il risultato, terza salita, penultima salita, questa è la salita, che può essere decisiva, anche se l'attacco, secondo me, da provare, nella prossima salita, assolutamente, andiamo ancora, qui, iniziamo a fare pacing, importante, andiamo a 90, quindi sprechiamo, molta barra rossa, no, forse troppo, non possiamo andare a 90, è troppo rischioso, ai cibaci, dicono di andare, come vuole, è troppo rischioso, occhio, perché qua, stiamo tirando collo, siamo in 7, siamo ragazzi, siamo in 6, siamo noi, con Suda e Arashiro, siamo noi, con Suda e Arashiro, attenzione, ora siamo tornati in 14, per un attimo, la discesa, ha dato modo, di rientrare, ora, questa discesa, Yamamoto, non puoi, non puoi risparmiarti, le maggiori possibilità, probabilmente, ce le ha, Kamada e Oka, chiedo a Kouishi, di passare davanti, perché, non ne ha, purtroppo, da quello che vedo, recuperiamo, ho sbagliato tasto, recuperiamo, barra, barra gialla, andiamo, ora dobbiamo fare, ora dobbiamo attaccare a male, ora, questa è l'ultima salita, Yamamoto, ha dato, Yamamoto ha dato, ora Kouishi, deve dare lo strappo, ora Kouishi, deve dare uno strappo importante, magari a 92, deve dare uno strappo importante, lo strappo importante, che deve portare su, poca gente, ora 90, siamo in, in pochi ragazzi, siamo in pochi, ora 85, dobbiamo provare, forse un attacco con, Kamada e Oka, forse dobbiamo provare, un attacco con Kamada e Oka, probabilmente, non adesso, alla prossima salita, alla prossima salita, sì, alla prossima salita, sì, facciamo recuperare la barra rossa, ragazzi, ora, Kouishi lo lascio in pacing, a Kamada e a Oka, chiedo di attaccare, a tutte e due, a Kamada e Oka, attaccano, e devono andare via, tutte e due insieme, devono andare via, tutte e due insieme, vanno via, tutte e due insieme, ora Kamada, porta su Oka, Kamada porta su Oka, che vorremmo far diventare, campione ragazzi, Kouishi, secondo me può attaccare, anche lui a questo punto, perché si sono, raggruppati, no, forse non ce la fa Kouishi, siamo in quattro, quindi non siamo riusciti, ad andare via, in maniera importante, prendiamo Gellino con Kamada, 6 km dall'arrivo, alla fine della fiera, Zuda e Tani hanno attaccato, Zuda e Tani, questa è la discesa, potremmo provare ad andare, un po' più aggressivi, in discesa, assolutamente sì, prende Gellino anche Oka, Kouishi ha tardato di 34-40 secondi, non riuscirà a rientrare, siamo sempre in quattro, siamo sempre in quattro, occhio che qua c'è gli ultimi chilometri, sarà tutto un casino, ma non si capirà nulla, andiamo con Oka, andiamo con Oka, che è anche uno sprinter, vediamo che Zuda ci sorpassa, Zuda ci sorpassa, ma forse non ce la fa, forse Kamada, forse Kamada, attenzione, Kamada, Kamada, Kouki, Kamada davanti a Tsushi Oka, ragazzi l'abbiamo rischiata, Yuji Zuda, stava per fregarci, poi Arashiro arriva davanti a Koishi, non l'abbiamo fatto sprintare, mannaggia, ne sono dimenticato, Yamamoto, abbandona la maglia di campione nazionale giapponese, ma rimane, rimane da noi ragazzi, questo è un obiettivo di uno sponsor raggiunto, come si deve, ottimo, ottimo ragazzi, ottimo, dai, è stata dura, è stata dura, ma abbiamo fatto secondo me la corsa migliore che potevamo, abbiamo staccato Yukiara, Shiro, che era il, diciamo, il ciclista più pericoloso, non l'abbiamo vinto con il, chi doveva vincerlo, insomma, l'abbiamo vinto con, con quello che era più, in forma, andiamo a vedere, sul podio, Koki, Kamada, campione nazionale giapponese ragazzi, yes, ah ah, daie, e Oroka Zushi che è arrivato secondo, non male per tutti e due, guardate i valori, e alla fine anche, anche Zusha Uji, peccato che questo ragazzo abbia, mi sembra un contatto anche per l'anno prossimo, perché sicuramente è un altro da prendere, a Rashiro forse per i 40 anni, no, e Zusha Uji è senza contratto, allora lo avvicineremo sicuramente, come mai non mi è comparso, non lo so, però, 71 colina, 71 combattività, è sicuramente un giapponesino da tenere in casa, assolutamente, bella corsa, buon risultato, bella corsa, hai vinto il campionato, sei campione nazionale giapponese, bella corsa, non ho capito, vabbè, vabbè, allora, taglio ragazzi, ci veniamo verso le battute finali del campionato nazionale italiano, ovviamente in questo caso, perché sarà la conclusione di questo video, che è comunque stato dedicato solo alle campionate nazionali, oltre che all'informazione sullo sponsor un po' importante di inizio video, poi vediamo come strutturare i prossimi eventi, perché potrebbero esserci degli eventi live, sicuramente molto più brevi di quelli degli anni dell'anno scorso, però magari potremmo fare una commissione tra live e video, potrei semplicemente farvi vedere qualche, qualche spezzone di corsa, negli ultimi magari 4-5 km, in maniera tale da avere comunque della produzione video, perché non sono obiettivi da adesso fino a quasi la fine dell'anno, non abbiamo più obiettivi, mi sembra che a livello di obiettivi abbiamo il giro delle miglia, quindi tra quasi 4, meno, poco meno di 4 mesi, quindi insomma sarà un po' complicato andare a giro delle miglia, cioè arrivare fino a giro delle miglia, come prospezione qua, una volta che firmi il contratto non arriva più nessuno, buono da sapere, va bene, ci sta, non abbiamo vinto, ah no, beh, siamo ancora giustamente il 23 di giugno, perché siamo i campionati nazionali, i campionati nazionali italiani, ragazzi, che come vedete, Carboni è aumentato, ah no, Carboni è in picco di forma, ecco perché ha tutto qua giallo, ottimo, ma Lucelli invece non è in forma, ma non è un problema, Pesenti non è in forma, che qui non è un problema, però ragazzi, allora, abbiamo conto, Ciccone, non siamo nemmeno tra i favoriti, qua probabilmente una top 10, è quello che possiamo sperare, è una corsa molto movimentata, sicuramente ci vedremo verso le ultime battute, se fossimo in posizione decente anche prima, ma in questo caso direi che le ultime battute, è quello che dobbiamo vedere di questo campionato nazionale, poi ragazzi abbiamo delle corse, molto rapide, io direi che potremmo tranquillamente vedere, 4 o 5 corse nel prossimo episodio spezzettati, in maniera tale da arrivare, comunque fino a, a questo, pro e bavigliafranca, ordisiaco, classica, dopodiché potremmo saltare il circuito del Ghezco, o vedersi il circuito del Ghezco, e vedere poi tutto il post-nord Tour of Denmark, perché qua abbiamo, avremo alta, come si dice, concorrenza, si saranno un sacco di gente molto brava, ma il nostro Maluccelli dovrebbe arrivare in forma, dopodiché non manca molto, e anzi, mi mancano queste corse da piazzare dentro, non le ho ancora piazzate, mea culpa, fino a, fino a fine agosto abbiamo fatto, poi lo dovrò fare, ma lo farò in un secondo momento, quindi potremo vederci queste corse nel prossimo episodio, molto, molto banalmente, siamo praticamente arrivati a metà stagione, dopodiché, anzi, vi dirò di più, sicuramente avremo queste corse nel prossimo episodio, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, dopodiché ragazzi, ciclomercato, perché inizia il primo di agosto, proprio, proprio qua, inizierà ciclomercato, e ci sarà un, episodio dedicato, ora, mi sono accorto che sono un po' buio, ecco come si fa a diventare, illuminati, campionati nazionali italiani, non perdiamo altro tempo, ok ragazzi, mi collego, perché sembra, una cosa molto interessante, siamo negli ultimi 19 km, siamo nel gruppo dei migliori, purtroppo pesente, ha un meno 2, come avete visto, non ha, non ha purtroppo le caratteristiche, per star davanti, mentre il nostro Carboni, con un alto valore, anche di combattività, e uno 0, che lo porta comunque, ad avere quei più 1, che abbiamo visto prima, sicuramente è un ottimo, sfidante, quindi pesente, deve portare su Carboni, siamo, addirittura, d'arrivo dell'ultima salita, è importante, quindi lo teniamo al passo, siamo i 23, siamo i 23 migliori, con noi c'è Ciccone, Formula Rotta, Scaroni, Baggioli, Fortunato, Pozzorivo, Pellizzari, Piganzoli, Brambile, Concep, in questo caso, addirittura, Pellizzari è rientrato, perché era caduto, quindi aveva avuto, grossi problemi, ora qua, il gruppo sta veramente, andando a tutta, noi dobbiamo assolutamente, seguire, lo scatto, io secondo me, dovremmo, dovremmo andare, dovremmo fare i pacing, noi, attacca Rotta, attacca il Piga, qua, per esempio, però è andato, qua bisogna, qua bisogna seguire, l'attacco con Carboni, l'attacco di Fortunato, ce l'abbiamo qua davanti, lo sfruttiamo, andiamo su con loro, proviamo, proviamo, quanto, quantomeno proviamo, quantomeno proviamo, a rilanciare l'attacco, eh, però occhio, perché qui andiamo, andiamo velocemente in difficoltà, eh, occhio, 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 pesenti, lo lasciamo lavorare da solo, vediamo se una top 10 è fattibile, eh, questi 3 davanti saranno complicati da tenere, noi siamo, beh, effettivamente siamo in, negli ultimi 10 rimasti, quindi ok, eh, seguiamo il gruppo, noi non abbiamo modo di recuperare, purtroppo anche stando a ruota gli altri, mentre la barra rossa non sale più di così, l'arrivo è decisamente in salita, gli ultimi 5 chilometri, io prendo il gelino ragazzi, io prendo il gelino perché ci sarà bisogno prima, del gelino, vediamo se riusciamo a combinare la magia, rientriamo sulla fuga, ecco, adesso sono ripartiti, io non posso andare a quella velocità, ma devo andare alla mia, che poi significa fare comunque uno scatto, importante, vediamo se riusciamo a piazzarci nei primi, nei primi 5, non credo, loro sono in 5, quindi non credo, occhio perché stiamo andando, oltre, quello che è le nostre possibilità, andiamo a 85, vediamo se recuperiamo qualcuno, durante la strada, eh no, siamo finiti, siamo purtroppo finiti, sfida 3, tra Ciccone, Scaroni e Rota, vediamo chi vince, Ciccone, Scaroni e Rota, vince Rota, Lorenzo Rota, davanti a, Ciccone, Scaroni, Piganzoli, eh, Formolo, poi ragazzi, arriviamo noi, no, Pozzo Ivo ci supera, arriviamo noi, eravamo finiti, con Giovanni Carboni, settima posizione, direi che è un, un ottimo, un ottimo risultato, per quanto mi riguarda, bravissimo, bravissimo, Giovanni Carboni, io sinceramente, sono sempre più convinto, di questo ragazzo, perché comunque, ha 24 anni, ha anche la, la, come si chiama, la gioventù, l'età dalla sua, quindi, sono contentissimo, spero voglia rimanere, spero non ci voglia, dissanguare con i, con i soldi, con l'offerta di contratto, ma voglio fare, voglio fare di lui, un grande leader, assolutamente, eh, perché se dovesse, fare un ulteriore step, di crescita, poi vi spiegherò, più avanti, come poter fare, questo step di crescita, sicuramente, può diventare bravo, è nella top ten, degli italiani, quindi voglio dire, non abbiamo proprio, un primo scappato di casa, eh, è sicuramente, un buon risultato, anche quello di, eh, di Carboni, probabilmente, 23 esatto, buon risultato, sono contento, bella corsa per Manucelli, eh, pesenti non ha fatto, né a né beh, non lo state presente, sia più forte, ma, secondo me Carboni, ne ha di più, non ne ha di più, di quello che sembra, in realtà, potrebbe diventare, un po' meglio, come velocista, ma, vediamo, detto questo, ragazzi, io non vi rubo altro tempo, come ne ho rubato ancora tanto, nel prossimo episodio, quelle corse lì, le vediamo insieme, quindi quelle 4-5, adesso vediamo se fare tutte quelle italiane, e saltare quella spagnola, o farle tutte, vediamo come il tempo, qualche tempo, quanto tempo avrò, e poi, ciclomercato, e andiamo a scoprire, con il budget dell'anno prossimo, quanti, bei ciclisti, riusciamo a mettere sotto contratto, italiani, e non, perché, adesso abbiamo questa commistione, di Italia e Giappone, di Italia e Asia, anche nello sponsor, lo faremo, lo faremo infilarci dentro, ci infiliremo sta cosa, in un modo o nell'altro, sicuramente, detto questo, ragazzi, un saluto e un bacione, vi ricordo di lasciare, un pollicione in su, se ve lo ricordate, ma vedo che ve lo ricordate, anche senza che ve lo dica io, quindi grazie, e alla prossima, ciao a tutti ragazzi.